Prospero Alpini nacque a Marostica, studiò all'Università di Padova e divenne medico, dottore in filosofia e medicina. Per molto tempo esercitò la professione di medico, prima a Marostica, e poi colse l'occasione, un po' spinto da il suo maestro che era il prefetto dell'ortobotanico, Guilandino, a affrontare un viaggio per ampliare le proprie conoscenze. Quindi il suo spirito di intraprendenza lo guidò a accettare un'offerta da parte di Venezia e divenne medico dell'ambasciatore veneziano Emo Al Cairo. Il viaggio per arrivare Al Cairo fu abbastanza avventuroso e Prospero Alpini dimostrò subito la sua intraprendenza perché furono costretti a fermarsi a Creta per problemi meteorologici e in questo periodo lui osservò e studiò la flora dell'isola di Creta e ci lasciò anche un testo su questa flora che è il dei plantis exotici. In questo testo lui descrive tutte le piante che incontrò in quel periodo. Arrivato in Egitto ci rimase tre anni come medico personale dell'ambasciatore ma usò questi tre anni proprio per esplorare, per conoscere le piante sia da un punto di vista botanico perché lui ovviamente era interessato anche dal punto di vista botanico ma soprattutto lui era interessato come medico agli usi che le popolazioni, la popolazione egiziana faceva di queste piante e quindi abbiamo delle descrizioni farmacologiche, farmacomediche mirate al fatto che queste piante potevano essere utilizzate per motivi terapeutici. Descrisse moltissime piante e tra queste la pianta del caffè a cui dobbiamo la prima descrizione organizzata e scientifica, descrisse per esempio la fenix datilifera e tutte queste sue osservazioni furono raccolti in alcuni testi che lui pubblicò al suo ritorno in Veneto e in particolare a Venezia dove lui dette anche alla stampa queste osservazioni. Le osservazioni furono ritenute molto utili e in un certo senso lo raccomandarono tra virgolette perché dopo la pubblicazione di tutte queste osservazioni di tipo botanico e farmacologico fu chiamato a Padova a tenere la Cattedra di lettura Simplicium. La Cattedra di lettura Simplicium prevedeva appunto l'insegnamento agli studenti di medicina che imparavano a riconoscere le piante medicinali. Tardi, alla morte del prefetto Cortuso, Prospero Alpini fu chiamato a dirigere l'orto botanico e fu un periodo molto molto fecondo perché Prospero Alpini aveva tantissimi contatti, molta corrispondenza con scienziati e altre istituzioni e era molto interessato a introdurre nuove piante e ad acclimatarle e quindi in quegli anni l'orto botanico conobbe proprio un'espansione e in particolare conobbe questa pratica che è quella dell'acclimatazione, quindi introdurre piante esotiche che vengono acclimatate qui al clima di Padova e quindi troviamo per esempio tra le piante acclimatate il sesamo, il rabarbaro che lui aveva descritto in uno di questi testi e conobbe proprio un periodo di prosperità grazie alla capacità di Prospero Alpini di scambiare idee, suggerimenti, ricerche con scienziati di varie nazionalità, abbiamo parecchia corrispondenza sua conservata qui in biblioteca dell'orto botanico, alla capacità di interessarsi agli usi terapeutici delle piante, quindi descrizione dei loro usi e appunto a questa pratica dell'acclimatazione, quindi l'orto botanico veramente in quegli anni conobbe un periodo aureo. Prospero Alpini continuò sempre comunque anche esercitare la professione medica e quindi abbiamo anche molte testimonianze in alcuni testi di persone che hanno utilizzato le sue competenze per quanto riguarda appunto la cura delle persone e purtroppo nel 1616 cominciò ad ammalarsi e mi pare di ricordare divenne prima sordo e poi fu sotto attacco di una febbre inspiegabile che lo portò alla morte nel 1616. La sua fama è dovuta oltre a tutto quello che ha fatto per l'orto botanico in particolar modo alla descrizione di una pianta che è la pianta del caffè di cui lui descrisse soprattutto gli usi che ne facevano le popolazioni egiziane, quindi venivano usati i semi tostati per preparare un decotto, una bevanda che si chiamava caova e che veniva venduta nei negozi oppure utilizzata nei luoghi di ritrovo come diciamo bevanda ludica al posto del vino, quindi questa bevanda prese piede poi più tardi in seguito alle descrizioni di Prospero Alpini anche in Europa, in particolare a Venezia, a Parigi e a Londra e possiamo legare al caffè, alla pianta del caffè, una storia sociale perché è diventata la bevanda dell'amicizia. Attorno a una tazza di caffè si discute di letteratura, si gioca a scacchi e col tempo poi i caffè divennero luoghi di scambio commerciale e quindi la borsa per esempio a Londra deriva da una trasformazione di un caffè in cui si discutevano, si compravano, facevano acquisti e si scambiavano appunto spezie, prodotti commerciali. Quindi la fama di Prospero Alpini è legata in particolar modo a questa pianta. Grazie. Grazie. Grazie.